Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Fabro e Arezzo, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno e code a tratti tra Firenze Scandicci e il Vivio con la variante di Valico. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per lavori tra San Miniato e Santa Croce-Sull'Arno in direzione Livorno. A Firenze, da oggi, al via il prolungamento serale delle corse in direzione Careggi, con ultimo passaggio da Santa Maria Novella a mezzanotte e mezzo, dalla domenica al giovedì. Nel fine settimana si conferma il consueto prolungamento notturno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!